Vediamo un attimo, sono sempre molto materiale, sono brutti, ma come dice il nostro coach Antonio sono veramente essenziali, anche perché io ho notato che avendo il piede a terra con dita ben separate e tutto riesco a sentire di più i miei glutei, se ho le scarpe e faccio lo stesso esercizio, perdo il focus così non fa niente per l'estetica, ma insomma fa bene e serve, questo qui separa per bene le nostre dita Sono anche più belli di come me, ne li ho visti un po', sono più tanti Questi qua arrivano fino sotto al ginocchio, dopo li proviamo e vediamo com'è con la scritta Prozis Abbiamo qui le piadine Prozis, eccolo qua, abbinato appunto al primo leggings della prima collaborazione che mi hanno inviato colore melange, non so come si dice, eccolo qua, tipo un beige chiaro Quest'altro top, cioè, questo modellino qui è senza imbottitura e crea un effetto super push up veramente, io ce l'ho color, uh che belli, io ce l'ho color melanzana ed è bellissimo questo rosa mi serviva, mamma mia questi vincono tutto ho lo stesso modellino, versione rosso, dopo ne indosso uno vi faccio capire, cioè da una seconda passa una quarta il nostro cappuccino, la mattina mi staccio con un bel cappuccino ah, questo è per fare la nostra torta in tazza cioè, se il mio condizionista guarda le storie capisce che la cosa sta un po' degenerando questo invece è per fare i nostri tartufi a cioccolato, sì perché sono molto golosa, a cioccolato cereali per la mattina, mi piace il preparato di pancake mamma mia quanta c'è tantissimo, raga bello, 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 bello mi sembra che ha cioccolato questa però, ah, meno male ho trovato un po' aperta, ma alla fine è sigillata buonissimo secondo me sarà molto buona in cucina sale rosa tenga signora cioccolata bianca e cocco è buonissima questa secondo me è spaziale bella salsa al curry per il nostro amato tacchino, così ha più stapore ovviamente sempre un goccio di canna makerle sono le nostre fantastiche barrettine sono dei brownie carne, dovrebbe essere, ancora devo capire cos'è sì, pollo ok il mio burro di arachidi al gusto caramello extra ma questa è una cosa proprio veramente di crea dipendenza oddio, sono schiamati bufì sono una vera dipendenza anche loro nel nostro latte di rizzo bevanda di cocco la mattina gli ultimi tre prodotti questa fantastica bottiglia di un litro i prosis adoro adoro, adoro, adoro abbiamo il burro di arachidi a cioccolato bianco che tutti ne parlano e dicono che sta proprio di cioccolato bianco e poi come ultimo prodotto ah, la granola che già mi mandò precedentemente prosis thank you